La canzone che noi interpretiamo viene proposta da una di noi perché ognuno di noi ha dei gusti, insomma, personale e quindi poi se incontra il film, il momento degli altri e di ciò che passa a noi accanto, nasce poi il brano che interpretiamo come questa, la stella è schegara, che si chiama Alberto Anno e ci rivediamo e ringraziamo la mia regia ancora Grazie a tutti 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 Grazie a tutti